Un aggiornamento sulla notizia dell'aereo passeggeri russo, schiantati pochi istanti fa sui monti dell'Uzzi, si sospetta che lo schianto sia stato provocato intenzialmente, una decisione spiegabile, parte fondamentale dell'abitacolo, parte fondamentale delle informi dei passeggeri, che i video dei telefoni dei passeggeri potrebbero chiarire cosa è che... C'è di sicuro la firma di Makarov. Ha fatto più danni lui in 72 ore di quanti ne abbia mai fatti Connie. Quell'aereo è caduto nel mio paese. Non è un incidente. Devo andare nel luogo dello schianto e provarlo. I dati mostrano che era un volo partito dalla Castovia e diretto a Sochi. È sparito in questa regione. Non mi serve altro. Arriva sul posto prima delle autorità. Non sono le autorità a preoccuparmi. Auguri farà. Grazie a tutti. Luogo dello schianto, oltre la rupe. Lo vedo. Poveracci. Qualcuno ci ha preceduti. Mercenari russi. I conni. Makarov. Ci incolperà anche di questo. Scopriamo cos'è successo lassù. Il mondo deve sapere. Non ci chiameranno terroristi. Mai più. Ma che fai? Vado là sotto. Ci sono almeno 20 uomini armati laggiù. Cosa posso fare? Puoi coprirmi. Raggiungi un punto più alto. Sì, signora. Sei in posizione? Affermativo. Vedo diverse squadre di conni vicino ai rottami. Si stanno impadronendo del sito. Non è stata l'ULF. Dobbiamo trovare qualunque cosa che lo dimostri. L'ASW ha attivato un tracciatore che capta i segnali nell'area. Possiamo trovare i cellulari dei passeggeri e la scatola nera. Ricevuto. Mi muovo. Ecco ti. Ti tengo a più. Riferirò a ciò che vedo da qui. Questi uomini non sono i benvenuti nel mio paese. Faglielo sapere. È quello che intendo fare. Faglielo sapere. L'ASW ha attivato un tracciatore che capta i segnali nell'area. Possiamo trovare i cellulari dei passeggeri e la scatola nera. Ricevuto. Mi muovo. Eccoti. Ti tengo d'occhio. Riferirò a ciò che vedo da qui. Questi uomini non sono i benvenuti nel mio paese. Faglielo sapere. È quello che intendo fare. Eccolo a ciò che vedo da qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti hanno persa di vista, ma ti cercheranno. No! Se solo potessimo ucciderli due volte. Attenzione Kilo, rinforzi nemici diretti verso di te. Un altro a terra. Ho visto dei conni rovistare là attorno. Forse gli è sfuggito qualcosa. Affermativo, Echo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Usano contro di loro, Kilo. È quello che intendo fare. Grazie a tutti. 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 Hai guadagnato un po' di tempo. ma ne stanno arrivando altri. Nessuna attività nell'edificio. Possiamo ignorarlo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Eccone un altro. Cosa vedi? Vedo un donna armata. Samara. Lei fa parte dei miei soldati. Sei sicura? Sì. Ma lei non lo farebbe mai. Ringaggio! Le persone cambiano farà. Tuo fratello? Questa è una cosa più alta, Sadex. Lo spero. Vediamo cos'altro riesce a trovare. C'è un segnale lì vicino. Continua a cercare. Ricevuto, ecco! Poi ne ancora parecchie truppe attive. Fa attenzione. Elimina... Elimina... E' un nemico a terra. Truppe di conni! Ti invio il video. La stessa dai guadagnato un po' di tempo. L'hanno costretto a farlo. Non puoi saperlo fare. Invece sì, Alex. Ne sono sicura. La scatola nera è ancora lì in zona. Minaccia neutralizzata. Ingaggio! S reddito, inson Herrn... Un po' di tempo! La scatola nera contiene dati importanti, Vara. Dobbiamo trovarla. C'è un po' di tempo! Stammi a terra! dobbiamo ancora trovare il rilevatore capta un segnale deve essere la scatola nera tranquillo insisti bravo e si vede la scatola ne ho fatto fuori un atto resta in movimento con i si riorganizzano il rilevatore capta un segnale deve essere la scatola nera chilo insisti molta potenza di fuoco è un segnale vicino forse proteggono la scatola nera cerco occhi aperti i rinforzi coni stanno puntando verso di te scatola nera scatola nera presa tutta nemici a terra ma si intende Scatola nera presa. Distruggo i dati o Makarov li userà per incriminare il mio esercito. Croni sta inviando rinforzi. Affermativo. Formatala. Non restano segnali. Abbiamo preso tutto. L'area è verificata. Andiamocene da qui. Vediamoci al punto d'ingresso. Ricevuto, comandante. Kiro, ho un problema. Ricevuto. Di che si tratta? Croni converge sulla mia posizione. Sono compromesso. Aspetta. Dove sei, Alex? Mi senti tra l'altro. Ecco, tre, uno mi ricevi. Contatto! Sono qui! Vai, Fara! Vattene subito da qui! No, Alex. Ti troverò. Croni, Fara! Ok, ok, ok. E' quello che ci serviva Farah. Penso non ci sia altro. Andiamocene da qui. Vediamoci il punto d'ingresso. Ricevuto, comandante. Kiro, ho un problema. Ricevuto. Di che si tratta? Connie converge sulla mia posizione. Sono compromesso. Aspetta! Dove sei, Alex? Mi senti tra l'uomo? Ecco, tra l'uomo mi ricevi. Mi contatto! Sono da qui! Vai, Farah! Vattene subito da qui! No, Alex. Ti troverò. Sono solo. Non c'è nessun altro. Ecco! Il JLTV! Vai al JLTV! Vai! Andiamo, Kiro. Ora! E adesso? Dobbiamo scoprire da dove vengono e dove stanno andando le truppe di conne. Devi seguirli. Ingaggia solo se è assolutamente necessario. Manterrò le distanze. Cerca di non farti beccare questa volta. Non prometto niente.